Salve a tutti Blazers e benvenuti nel terzo episodio di Attack on Titan Wings of Freedom Prima di cominciare con il video vero e proprio vi faccio un brevissimo annuncio che so vi farà felicissimi Perché ho deciso che la serie da oggi in poi uscirà tutti i giorni alle 21, quindi la sera, come serie serale Perché questa cosa, ci sono dei motivi che in realtà non dipendono da me, mi trovo un po' costretto ad accelerare il passo Mentre nelle mie intenzioni c'era l'idea di farlo durare il più possibile perché mi spiacerà un sacco quando finirà questa serie a cui tengo tantissimo Comunque mi spiace fino a un certo punto perché sta andando davvero bene, quindi anche farlo tutti i giorni Penso che sarete contenti voi e anch'io vedrò probabilmente un bel risultato, quindi benvenga Un po' mi dispiace di non poter mai fare le cose con calma Quindi uscirà tutti i giorni, domenica compresa, alle 21 Uno, certe volte non uscirà il secondo video di pomeriggio, altre volte usciranno tre video nella giornata Quindi alle 14, alle 18, forse alle 19, adesso devo vedere E poi appunto alle 21 sempre Attack on Titan Quindi già domani tornate sul canale perché ci sarà il prossimo episodio Detto ciò vi lascio con il video, ciao a tutti Ci troviamo qui sulla sommità di Wall Rose Un muro che è appena stato distrutto dal titano colossale che come è arrivato è scomparso E distruzione che ha causato l'invasione da parte dei titani della città di Trost Noi siamo su questo muro, sono tutti in massima allerta E siamo pronti per continuare e probabilmente scendere Dico probabilmente anche se so cosa sta per accadere Però voglio lasciare l'hype perché ho vistosi l'anime Ma tante cose sono inedite nel gioco tra l'altro Comunque abbiamo sicuramente davanti a noi una grande battaglia Vi chiedo come sempre di sostenere questa serie che mi sta piacendo un sacco Con un bel like e detto ciò ragazzi andiamo subito ad attivare la prossima missione Da questo tizio qui Cadetto, fatti strada fino al quartier generale per ricevere gli ordini Sì signore, andiamo Vi dividerete in squadre per attaccare i titani Il reggimento di Guarnigione servirà come avanguardia Mentre la squadra centrale sarà la squadra di supporto dei cadetti E poi ci sarà la squadra d'elite Secondo i messaggi la squadra d'avanguardia è già stata distrutta I titani sono passati verso il muro esterno Verso il gate esterno Difendere il War Rose con tutto quello che abbiamo è la priorità E i cittadini devono essere evacuati ovviamente La situazione è abbastanza brutta Gian, perché oggi? Tra tutti i giorni Doveva essere un passo in più per andare nell'interno delle mura E invece, poco prima del diploma Si ritrovano qui a combattere per forza di cose Mikasa sarà lasciata con i cittadini Perché è un soldato d'elite e deve proteggere i cittadini Però lei non vuole perché vuole stare con Eren per difenderlo Invece Eren dice Dai Mikasa, l'umanità è a faccia a faccia con un'estinzione Non c'è tempo per creare queste grane Devi accettare gli ordini E Mikasa chiede un solo favore a Eren Per piacere Non morire Non morirò Non posso morire così Lui deve vendicarsi di tutti i titani E così i nostri si dividono Siamo qui con Armin Sopra i tetti E Eren dice Armin, non pensi che sia un'ottima opportunità Prima ancora di Entrare nella legione esplorativa Potremo affrontare la nostra prima battaglia Anche Armin è d'accordo Sono abbastanza casati E qui abbiamo tutta la nostra squadra Vogliono fare una gara? Una gara che ucciderà più i titani Ok Arrivato il momento Dobbiamo andare Vai Eccoci, muoviamo tutti all'unisono Verso l'attacco Uh, raga Esploriamo per la prima volta Una città Lì c'è Armin C'è un punto esclamativo Ok, andiamo qua sopra Sono arrivato sul tetto Eccoci Armin Ok Dobbiamo farli gioinare Tipo il nostro party Perfetto Ora lui si muoverà insieme a noi Andiamo verso gli altri Dai, anche tu Vieni con noi Hanno lanciato un flare verde? È una missione secondaria il flare verde Possiamo andare sicuramente a vedere Però adesso me lo sono già perso Dove è che stava? Eh, di qua Ok, andiamo 500 metri Però noi siamo velocissimi Ok, guardate Ci sono tutti i cadetti Che vanno in giro in tutto ciò C'era anche un titano qua dietro Mi sa Però noi dobbiamo andare al flare Perfetto Eccoci qua C'è un titano C'è un titano Ok, avvicinati Boom Ce l'ho fatta Abbiamo salvato Un tizio, credo Ragazzi Qua c'è un altro titano Però Andiamo Boom Mamma mia È già il secondo che facciamo fuori Perfetto E ragazzi Vedete quell'enorme masso Tenetelo bene a mente Io non dico altro Ma tenetelo bene a mente Raga Qui c'è un titano molto alto Quanto pare Cerchiamo di attaccarlo Alle gambe Per il momento Vai Sta attaccando Un cadetto Lo dobbiamo difendere Perfetto Eh Tagliamogli anche le braccia Così non raccoglierà nessuno No, non ce l'ho fatta Cazzo Allora andiamo la collotola Vediamoci Boom Soggiogato Completamente soggiogato C'è scritto C'è un anomalo qui Probabilmente Occhio, occhio Ok Abbiamo salvato Il cadetto Giusto In tempo Agganciano la collotola E boom Mamma mia ragazzi Quanto mi sto aggasando Ragazzi Questo Soldato è morto Per colpa del titano E possiamo Raccogliere i suoi item Ok Almeno ci possiamo Ricaricare È un titano molto piccolo Questo Non dovrebbe essere Un grosso problema Vai Boom 648 Ragazzi Che danno Che gli abbiamo fatto Solo che Abbiamo veramente Pochissime bombole Devo andare A ricaricarmi Da qualche parte C'è un altro segnale verde Però Ah Merda Ed è la parte opposta Il segnale Vabbè Andiamoci Purtroppo ho finito il gas Ragazzi Ho finito il gas Ma Qua è richiesto il nostro aiuto Ok Boom Ok Sono arrivati giusto in tempo Perfetto Dovrei Aver salvato il soldato E qui Possiamo ricaricarci Dai dai Mi servono subito le cose Ci dobbiamo ricaricare Gas Perfetto Lame nuove Lame nuove Abbiamo un nuovo segnale di fumola Ok Dobbiamo muoverci Vai Corri Ah Ce n'è uno qui Ma devo muovermi Andare verso il segnale Non posso perdere tempo Con questi titani Dove sono gli altri Eccoli Sono esattamente qua Nella piazza Che succede Siamo un attimo al sicuro Qua dentro Dobbiamo andare a intercettare I piccoli titani Ok Ok Eccolo Eccone uno Giragli attorno Boom Perfetto Stiamo andando in quattro Per fare fuori un titano Che esagerazione Uh Ce n'è uno dietro Mi sa di sì Ho visto un casino qua No è quello che cadeva Ok Dov'è il prossimo Eccolo Vai muoviamoci Aggancio Boom Giraci un po' attorno Vai Ocio 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 Non mi lascerà andare dietro tanto facilmente Ma devo provarci Ho fallito Ho fallito Vai 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 Ce la posso fare Ok 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 Ce l'ho fatta ragazzi Ce l'ho fatta Mi serve altro gas Mi serve Dovrebbe essere un titano Di dimensioni piccole Eccolo Perfetto Perfetto Vai Boom E anche questa è fatta Molto bene Ehm Ci sono titani ancora per tutta la città Ma non so dove dovrei andare Raga Continuano ad apparire Flair su flair Qua è proprio una situazione di guerra totale Allora Dov'è il prossimo flair? Da questa parte Ok Sto correndo Più che posso Vediamo cosa succede qui Ok C'è un titano Proprio qua sotto Vai Ok L'ho colpito al braccio Perfetto Ora Vai la collotola Boom Shottatissimo Ok Ce l'abbiamo fatta anche a fare questa missione Perfetto Ehm Ho bisogno di ricaricarmi E tra poco avrò bisogno di altri viveri però Ce n'è uno qui probabilmente Sì Possiamo ricaricarci in questo punto Top Grazie 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 mille Vai su Boom Ok L'ho tirato giù Perfetto Andiamo avanti Eccone un altro Ok Devo scappare un attimo Questi sono veloci Sono pericolosissimi Questi titani Ok Ok Agganciato Mamma mia raga Quanto siamo forti Oddio Ce ne sono tantissimi però Ce ne sono davvero un sacco Ne sta mangiando uno Sta mangiando uno No No Ha mangiato uno di nostri Ce l'ha fatta Non sono riuscito a salvarlo Mannaggia te Boom Preso 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 Andiamo avanti Andiamo avanti Ok Super subjugation Raga stiamo Ottenendo Delle robe devastanti qua Ok E' entrato un altro titano Che ha Ignorato il tizio E' un titano anomalo questo Ok L'ha ignorato solo fino a un certo punto Dobbiamo tirare giù questo anomalo raga Oddio ma è infuocato Ma che gli succede E' il boss raga Ce la possiamo fare Boom Ok Ok l'ho colpito raga L'ho colpito subito Vai ora Boom Preso la collotola Ok Non è ancora Andato giù raga Non Non basterà così poco Per farlo fuori Devo anche ricaricare La lama in tutto ciò Ovviamente cerca di attaccarmi In tutti i modi Ok Ok Abbiamo un pezzo di crafting Lì tra l'altro Tagliamoli il braccio Top Grande 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 C'è questo piccolino Ok Ce lo leviamo dalle palle Molto bene Vai la collotola Lanciamo il flare Per indicare che questa sarà la battaglia finale Mamma mia che robe epiche raga Che robe epiche Sta fumando Ok mi posso avvicinare Preso 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 Li stiamo facendo un male cane Continuiamo così Ce la stiamo giocando benissimo A parte questo Oh cazzo Questo colpo Non è andato a segno Vai 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 Boom E va giù anche lui Abbiamo completato la missione Ma l'invasione dei titani Sta continuando Ed è peggiorata Dobbiamo muoverci L'avanguardia è stata sterminata ragazzi E i titani stanno avanzando nella città Nonostante il duro lavoro Oddio Non me la ricordavo sta cosa È saltato in aria E lo ha preso Ha catturato Thomas In un attimo Si sono accorti della vera potenza Dei titani Ed Eren è andato in Berserk La sua rabbia La disattenzione Ha fatto in modo che venisse Attaccato E ha perso una gamba In questo momento Tutta la squadra È stata circondata E Armin rimasto da solo Non ha le forze neanche per reagire Perché sto guardando i miei amici venire mangiati Senza poter fare nulla Sesso destino che potrebbe toccare a lui tra poco E non riesce neanche a muoversi E non riesce a fare nulla Per esempio E non riesce a fare nulla E non riesce a fare nulla E non riesce a fare nulla Ares Certo Eren non si arrende Ne mette il suo amico Viene lentamente ingoiato Cerca di salvarla in tutti i modi Con un ultimo gesto eroico Non posso morire In questo modo Sei stato tu a insegnarmelo Armin Noi andremo nel mondo esterno Fuori dalle mura Eren muoviti Eren non è riuscito a scappare in tempo Mentre mi casa Nelle retrovie Sente che qualcosa è successo E ragazzi potremmo anche concludere qui Quella che è stata una missione Cruciale per la storia Eren è stato Mangiato vivo È stato fatto a pezzi E mangiato vivo Da un titano Per salvare Armin Abbiamo preso A In questa missione Abbiamo una S Una B Un'altra S Va bene Non è importante quello Livelliamo il buon Eren Che però è stato mangiato E abbiamo i rewards Ragazzi Come avete visto È un anime Un anime Un videogioco Derivato da un anime manga Molto crudo Che nella sua idea Di fantascientifico Di questi titani Mangiauomini Comunque è realistico Cioè non ci sono Eroi invincibili È realistico Quindi ragazzi Che dire Vi consiglio Se non avete mai visto Il manga All'anime Di non leggere i commenti Perché potreste avere Delle spoglie Sugli accadimenti futuri Dopo una cosa del genere Potete ben capire Però Per il resto Ragazzi Vi rimando Al prossimo video Vediamo adesso Che cosa capiterà Siamo qui con Mikasa Ovviamente Si domanda Come sta Eren Ovviamente Ma lei Ha bisogno di Concentrarsi Sulla sua missione Altrimenti Eren Si arrabbierà Con lei Dice Ok Siamo in un'altra Zona di pausa In questo momento Il nostro personaggio Mikasa Che è Il soldato più forte Praticamente Dell'intera storia Al pari Forse di Levi Oddio Non c'è mai stato Un vero e proprio confronto Ma non stiamo qui A discuterne Ragazzi Direi che per questo video Può essere tutto È stato un video Caotico Con una svolta Nella storia Davvero importante Quindi noi ci vediamo Presto con un prossimo episodio Un saluto Da Eren Blaze Ciao a tutti